Musica Andiamo velocemente su un update a una notizia di ieri riguardante Marina Joyce semplicemente perché credo di non aver mai visto prima d'ora nulla di queste proporzioni su internet hanno finito ad occuparsene anche testate giornalistiche serie, semiserie peraltro in alcuni casi esagerandone a dismisura la gravità con il tirare dentro pure l'Isis ma che ci vuoi fare? Di questi tempi l'Isis tira più carri di voi di qualsiasi altra cosa quindi magari è stato l'Isis ieri ce ne siamo occupati abbastanza e credo di aver dato due elementi sui quali si sarebbe potuto riflettere un po' di più e che credo in troppi abbiano ignorato il primo, la polizia si è già occupata della questione e ha detto che è tutto ok sono andati fisicamente dalla ragazza e non hanno trovato nessuno quindi o non c'è nessuno che obbliga la ragazza a fare i video o ci troviamo di fronte all'operato della nuova divisione ninja dell'Isis immu ninja idin secondo punto, persone vicine alla ragazza hanno parlato di problemi di droga che lei stessa non sembra voler ammettere nemmeno in un'intervista fatta da un altro youtuber, Philip DeFranco che di fatto su Skype le ha chiesto conto di tutte le cose che circolavano attorno al suo personaggio non foste convinti? guardate l'intervista perché è abbastanza chiaro che la ragazza non sia presente a se stessa e non si rende nemmeno veramente conto di cosa stia succedendo della portata delle cose che le accadono attorno e no, sono piuttosto sicuro che non sia tutta una questione di pubblicità peraltro, se siete di quelli per i quali è sempre tutta una questione di pubblicità sapete che, involontariamente, o volontariamente, vi metto nello stesso cesto di quelli che vivono tutti i giorni nella loro vita come se attorno a loro fosse tutto un complotto ieri però avete continuato a mandarmi video della ragazza che fa il cuore con le mani in una live con accanto utenti che le scrivono fai il cuore con le mani se hai bisogno di aiuto e quindi Omgiu in una chat che scorre tra 3000 messaggi al secondo ha sicuramente risposto a voi che le chiedevate di fare una cosa che fa continuamente è sicuramente l'Isis in pratica sarebbe come stare in live con me e invitarmi a chiedervi aiuto abusando di avvervi come tendenzialmente o praticamente o fare battute che non fanno ridere ora che ci penso è un'ottima scusa per le mie battute di merda sono anche circolati audio fake della ragazza che inviterebbe a non andare a questa fantomatica festa che si sarebbe dovuta tenere oggi e che non era nemmeno oggi tanto meno alle 6 del mattino sono tutte balle, poi tweet fake che Marina avrebbe cancellato ma che in realtà non ha mai scritto e robe così di fatto vi state facendo trollare da alcuni stronzi che fabbricano queste cose per prendersi gioco di voi, sappiatelo peraltro visto che parliamo di cose dall'internet nell'internet la Ice Bucket Challenge ve la ricordate? sono passati due anni dai quali milioni di italiani anche dall'alto delle loro posizioni di opinionisti su bastioni di alcuni importanti giornali nazionali e me li ricordo bene si sono lamentati di altrettanti loro connazionali che giocavano a versarsi acqua addosso e donare soldi alla ricerca per la sclerosi laterale amiotrofica gne 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 è una cosa stupida uè si vabbè billy grazie dell'articolo e del commento su facebook sei più importante degli altri e scommetto che sei uno di quelli che si masturba furiosamente riguardando video di sé in VHS intento ad affermare con orgoglio di non giocare a Pokemon Go perché è da bambini uè 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 va bene va bene grazie a questa cosa si tirarono su più di 100 milioni di dollari e vennero utilizzati per finanziare il progetto MINE una ricerca atta a individuare il genere responsabile o perlomeno direttamente collegato all'insorgenza della malattia e indovinate un po' ha funzionato una variante di un gene che si chiama NEC1 credo di dovervi delle scuse quest'oggi renderebbe le persone suscettibili a contrarre proprio questa patologia lo studio è su Nature link in descrizione un'altra cosa interessantissima riguarda la presa di posizione di molti giornalisti italiani in merito alla decisione di Le Monde e anche di Repubblica a quanto pare che segue a ruota il giornale francese di non pubblicare più le facce dei terroristi e le foto macabre per non aiutare i terroristi stessi nel loro intento che è appunto quello di terrorizzare tra questi Mentana con il quale mi trovo molto in disaccordo ultimamente per quello che vale e Massimo Mantellini vi lascio un suo articolo in merito in descrizione queste due figure, come tante altre, hanno fatto finire il monocolo nel te scandalizzandosi all'idea che qualcuno, io sono tra questi, abbia invece accolto positivamente questa decisione evocando la libertà di stampa e di informare i cittadini e affermando che non è facendo meno informazione che si combatte il terrorismo ma il punto è che nessuno ha parlato di fare meno informazione nessuno ha detto non parliamo più degli attentati abbiamo detto evitiamo il processo morboso di spulciare le foto di Facebook di chi fa gli attentati di pubblicare il video del loro giuramento durante il TG cosa che l'assette ha fatto ieri e di mostrare le loro foto in bagno e di dare loro così tanta importanza in genere nessuno parla di chiudere gli occhi semplicemente di strappare dalle mani di queste persone l'arma più forte che hanno ovvero quella di mandare nel panico la gente che lo guarda il TG l'informazione deve essere informazione, non emozione se si vuole fare emozione si fa cinema o si fanno servizi da 700 minuti sui gatti con i capelli buffi che fa spesso studio aperto è una battaglia che combatto da sempre in un sacco di ambiti e i risultati negli anni mi hanno dato ragione dare attenzione a chi non fa altro che provocare, pianucolare è sbagliato Mantellini fa un ottimo esempio i titoloni del cazzo di Libero e del Giornale che non precedono quasi mai contenuti di qualità ma sono fatti soltanto per far incazzare e parlare di sé e far indignare, far arrabbiare dovremmo ignorarli? dipende se vuoi che i tuoi elettori si informino in merito al perché i titoli sessisti o islamofobi o del cazzo in generale siano sbagliati e se entrano la tua opinione al riguardo no, non dobbiamo ignorarli ma se non li ignori devi essere consapevole e prenderti la responsabilità del fatto che stai facendo esattamente quello ci si aspetta a tu faccia arrabbiarti, indignarti, sbottare, lamentarti esattamente quello che queste persone vogliono attenzione se gli togli l'attenzione muoiono è come togliere l'acqua ai pesci quindi il punto da domandarsi non è più o meno informazione di nuovo nessuno parla di non fare informazione la domanda da porsi è se ci si senta sulle spalle o no una responsabilità come divulgatori come giornalisti come presentatori come media nei confronti della lotta al terrorismo o se la lotta al terrorismo la debbano fare gli altri e il compito dei media sia invece soltanto quello di informare e di fare zoom sulle foto di facebook dei terroristi parliamo di esteri partendo dalla Germania la Merkel è abbastanza criticata in queste ore per la decisione a seguito dei due attentati di non modificare la sua cosiddetta politica aperta nei confronti dei migranti dopo che ben due attentati uno dei quali in buona parte fallito sono stati compiuti in suolo tedesco da tre migranti partiamo dalle basi tutte e tre i terroristi coinvolti erano entrati prima delle politiche della Merkel e la cancelliera ha dato un messaggio molto chiaro la Germania non è in guerra con l'islam non è in guerra con chi cerca asilo non è in guerra con i musulmani presenti sul territorio non è in guerra con queste persone è in guerra col terrorismo è un messaggio importantissimo perché è questo il distinguo che molti faticano a fare a rappresentare la differenza non soltanto perché fare confusione tra terroristi e richiedenti asilo è intellettualmente disonesto sono due cose completamente diverse ma perché se da musulmano in un paese straniero senti che la gente è comunque dalla tua parte se ti comporti bene sei più propenso a collaborare e non a sentirti sotto assedio a sentirti non desiderato a sentirti odiato un esempio ce n'è uno tutto italiano ieri il ministro Alfano che ancora non si è dimesso ma dai e con gli hashtag ormai ci siamo ha reso nota l'espulsione di un imam che predicava nel vicentino di nome Mohammed Madad in pratica questo qui che ha chiamato una figlia Jihad che è strano perché ho letto in vari libri che Jihad è una parola maschile ma vabbè non fa niente teneva dei sermoni in una moschea sermoni che sono diventati progressivamente più violenti e intolleranti tanto dal consigliare ai bambini ai quali faceva da guida spirituale di non parlare con i bambini cristiani espulso è stato portato a forza in marocco sapete come è saltato fuori tutto? lo avrebbero denunciato alcuni fedeli che seguivano i sermoni fedeli musulmani è un dettaglio importantissimo sta passando troppo inosservata questa cosa nel frattempo USA e Russia potrebbero essere di nuovo sull'orlo non di nuovo dell'ennesima crisi diplomatica dopo che le voci che si rincorrono in merito a questi fantomatici anche russi che hanno sottratto decine di migliaia di mail del partito democratico americano diventano insistenti sull'attribuire la paternità del gesto al governo osso ora i servizi di intelligence dei paesi spiano gli altri paesi continuamente lo fanno tutti lo facciamo anche noi gli altri lo fanno con noi è una sorta di segreto che tutti conoscono del quale non si parla mai come quella volta che tu hai fatto quella roba lì e tutti in famiglia fingono di non saperlo anche se lo sanno Stefania lo sanno benissimo tutti lo sappiamo benissimo una cosa è saperlo nelle fantasie però una cosa è quando i dati sottratti vengono pubblicati da Wikileaks peraltro con l'intento palese di danneggiare la campagna di Hillary Clinton cosa che pure Julian Assange ha ammesso più volte di voler fare di fatto quindi favorendo l'avversario Donald Trump e non è l'unico anche Putin apparentemente avrebbe più in simpatia il miliardario della ex first lady quindi c'è questo e infine la Turchia un casino oggi più di 130 tra emittenti tv giornali magazine case editrici e radio indipendenti molti di questi legati al famoso arci nemico di Erdogan Fethullah Gulen hanno visto i loro permessi revocati che è un modo simpatico di dire beh amici siete chiusi andate a cercarvi un altro lavoro e nelle settimane scorse circa 1700 unità dell'esercito comprese le alte cariche sono state messe a spasso questo numero è enorme e molti analisti dicono preceda un ritiro della Turchia dalle zone di guerra al confine con la Siria tra le poche truppe peraltro sul campo in grado di preoccupare direttamente le forze militari di Bashar al-Assad il presidente siriano numeri di questo tipo rappresentano dei buchi importanti nell'organico che per essere riempiti necessitano di tempo tempo nel quale la Turchia impegnata come con i suoi problemi interni chiamiamoli così potrebbe decidere di diminuire o annullare completamente i suoi sforzi nel conflitto di questo ovviamente sia Bashar al-Assad che l'Isis potrebbero essere più che contenti questo comunque è tutto per oggi grazie per aver guardato link in descrizione mi raccomando i commenti fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto grazie mille ai due alfieri per oggi grazie moltissimo della mail innanzitutto che mi ha mandato Luca sono infatti Luca e Salvatore studenti universitari uno a Napoli e uno a Bologna di nuovo grazie della mail quelle sono miniature di Warhammer eh credo che siano miniature di Warhammer comunque fate i bravi e ci vediamo domani per l'ultima puntata finale prima della pausa estiva da lunedì non ci conosciamo non è vero sarò continuamente sui social sarò sempre qui in studio però niente Breaking Italy sino al primo di settembre però domani sì grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri